Soleni celebrazioni presiedute dal Vescovo di Bergamo, Monsignore Francesco Beschi, ieri mattina a San Lorenzo di Rovetta in occasione della Festa della Mare. Sull'altare numerosi sacerdoti, Don Guido Rottigni, parroco di San Lorenzo di Rovetta, Don Mauro Bassanelli, parroco di Fino del Monte e vicari locale, Don Severo Fornoni, parroco di Rovetta, Don Ivan Dogana, di Onore e Son Gavazzo, e Don Oliviero Facci, residente a San Lorenzo. Per via della presenza del Vescovo, quest'anno in via eccezionale, la tradizionale processione si è tenuta al mattino. La tradizionale processione si è tenuta al mattino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.